bello a tutti, bello a tutti siamo in questo nuovo video siamo oggi è 7 gennaio 2018 tanto credo che lo caricherò tra poco, sono un tipo di due o qualcosa da mezza lo caricherò più tardi o sei quattro non lo so comunque per dire ovviamente sono ancora arrabbiato per ieri per la partita della roma e poi ho fatto il video e sono contento per il benevento, ma sono super contento il fatto che quello del benevento adesso ha quasi 70 le visualizzazioni e quello della roma quasi 110 quindi una roba assurda, ho visto altri video, ho visto altri video, il massimo di altri video è tipo 40, tranne qualcuno, tranne qualcuno non ho detto niente, tranne qualcuno un po' così diciamo particolare, tranne quello di tutto a posto vabbè quello di casa a parte che sono più 10 mila visualizzazioni, ma a parte qualcuno qualche gioco o qualcosa che ho fatto di dire questo qua invece questo qua invece ha raggiunto 110 visualizzazioni quasi quindi 108 mi pare stato prima, vabbè quindi buono buono così ma adesso io sono a fare questo video dopo tutte queste premesse e un minuto e 30 va bene per dirvi basta 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 non si può andare avanti così facciamo un appello al direttore della roma della roma io non uso instagram facebook ma se voi che mi seguite lì usate andate sotto andate sotto andate sotto andate sotto tutti i profili della roma e scrivete e dovete e dovete chiedere di comprare un maledetto esterno d'attacco un'ala destra un'ala destra barra esterno come lo volete chiamare voi ma lo devono comprare basta giocare con e sharawi in quella posizione che non può giocare chic o defrael che non possono giocare basta 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 voi vogliono vendere voi vogliono vendere peres vendessero peres dobbiamo togliere peres defrael e gonalon questi tre ci dobbiamo togliere per comprarsi per comprarsi per comprarci di nuovi giocatori basta se dobbiamo comprare un esterno d'attacco non si può andare avanti così tu non puoi cioè tu non puoi vincere tu non puoi vincere se non hai i giocatori under under è il sostituto il under fa il sostituto quello che vai a comprare uno alla sala sta facendo i sfracelli con il con lì percorsi quello lì gioca sempre per con le piccole che fai giocare fai giocare fai giocare under con le grandi fai giocare quello che ti compri devi spendere dovete andare a lavorare vabbè scherzo però però bisogna però bisogna bisogna farlo cioè bisogna farlo quindi forza quindi forza tutti a scrivere tutti a scrivere sotto tutti a scrivere sotto i video della roma sotto i post della roma comprate un esterno d'attacco non vuole non vuole anche anche di francesco ma monci non vuole comprarlo è un fessolo se non lo compra non andiamo da nessuna parte se vogliamo almeno cercare di aiutare terzi terzi per andare di nuovo in champions league o comunque fare qualcosa in champions league bisogna farlo bisogna farlo forza 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 e dai dopo di questo vi saluto bella